Ehi, ciao a tutti, eccoci ritrovati. Bene, allora, nelle scorse puntate abbiamo visto come incorporare un video di YouTube e di Vimeo utilizzando l'iFrame che ci viene messo a disposizione. In questa puntata vedremo ancora una volta, l'ultimissima volta, ancora l'iFrame e in questo caso tratteremo come incorporare una Google Maps nella nostra pagina HTML. A cosa serve la Google Maps? Allora, innanzitutto, può servirci quando stiamo facendo un sito per mettere la località esatta del sito, in questo caso. Quindi, cosa facciamo? Allora, è molto comodo questo strumento. Andiamo su Google e ovviamente andiamo in Google Maps. Bene, allora, cerchiamo... mettiamo Roma. Ecco qua. Cosa facciamo? Mettiamo il caso di voler inserire la mappa di Roma nella nostra pagina HTML. Cosa facciamo? Allora, andiamo qua a sinistra, guardando questo chiuso, si apre, si chiude. Clicchiamo su condividi ovviamente e anche qui c'è la possibilità di incorporare mappa. Selezioniamo tutto questo e, indovinato un po', lo incolliamo in denweaver. Andiamo ancora all'interno del body, lo incolliamo e anche qui abbiamo un bellissimo iframe che in automatico ha 600 di larghezza e 450 di altezza. Non vi preoccupate se qua va a capo, a me in questo caso va a capo, causa finestra troppo piccola. Infatti, voi lo incollate e semplicemente salvate. Andiamo a vedere a codice cosa succede. lo apriamo. Lo apriamo. No, questo. Lo apriamo e vedremo comparire la nostra Google Maps di Roma. Allora, in automatico, a me qua riconosce la mia faccia essendo logato su Google, in automatico ci fa zoomare proprio come se fossimo all'interno della Google Maps di Google, come se fossimo in questa pagina. Possiamo anche chiedere Get Direction, quindi qua potremo dare il punto di partenza e il punto di arrivo. E niente, possiamo comunque vedere View Large Map, ovvero ci apre la pagina di Google e quindi qua abbiamo la mappa incorporata. Se volessimo mettere lo Street View di Google, ovvero omino nella pagina, anche qua non basterà nient'altro che una volta arrivati nella nostra paginetta, condividi o incorpora immagine. Però aspetta, questo non ci serve l'immagine, ma ci serve lo Street View, quindi troviamo una via, proviamo a vedere se va. Ok, in questo caso eccoci qua, la Street View è questa qui che ci fa andare avanti e indietro. Vogliamo mettere questa. Cosa facciamo? Andiamo qui nei tre pontini, condivido e incorpora immagine in questo caso. Va bene. Vedete cosa succede? Ci crea proprio questa sorta di Street View navigabile, quindi se noi la incolliamo e la copiamo nella nostra pagina HTML, andiamo a vedere cosa succede, ci troviamo la mappa e qua la Street View. Molto comodo, molto navigabile e tutto questo all'interno nel nostro documento, nel nostro file, nella nostra paginetta HTML. Bene, giuro che non vi stresserò più con questi frame, ormai abbiamo imparato i tre frame più usati, ovvero YouTube, Google e Vimeo. E niente, nella prossima puntata, date le richieste e inizieremo a vedere anche qualcosa in merito agli stili CSS, ovvero tutto quello che comporta il design dell'HTML. Per adesso abbiamo visto solo le parti, gli elementi che costruiscono l'HTML, che costruiscono tutto ciò che è web. Adesso andremo a vedere come dargli un determinato stile, quindi potremo mettere il colore alle pagine, il colore ai testi, cambiare il font e vedremo tutti questi elementi. Quindi vi do appuntamento alla prossima puntata, non mancate e vi auguro una buona giornata. Alla prossima, ciao a tutti!